Cause you're everywhere to me And when I close my eyes it's you I see You're everything I know that makes me believe I'm not alone Eurobet rinnova l'accordo di sponsorship per Lega 2 E sarà dunque titolo sponsor del campionato Lega 2 2011-2012 16 squadre il via per una stagione avvincente Che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo d'ottobre Con la prima giornata della stagione regolare Che si concluderà sabato 5 maggio nel 2012 L'accordo tra Eurobet e Lega 2 include Come nella stagione appena conclusa Anche playoff che prenderanno il via il 9 maggio E finali 2012 che inizieranno il 6 giugno Ancora niente 6 nella prima estrazione della settimana Il jackpot del disfreno all'otto si presenterà L'appuntamento giovedì con un bottino di 50,5 milioni di euro Non è uscito il 5 più Mentre sono stati 8 e 5 A ognuno dei quali sono andati oltre 48 mila euro In testa alla classifica dei numeri maggiormente ritardatari Nella combinazione vincente troviamo il 73 con 90 turni di assenza